avete sentito anche voi la notizia di Ibra no? Ibra ovviamente non era già presente non sarà presente con l'Udinese ma salterà anche il derby di Coppa Italia quindi si prolunga ancora di più l'attesa per il rientro di Zlatan che dire che pensare ragazzi alla fine Zlatan in questo Milan è importante perché nessuno nega perché se voi andate a vedere lo score comunque lui è primo il capocannoniere del Milan con otto gol e questa poi la bella dice lunga sulla tipologia di attacco che abbiamo perché se Ibra che è assente un giorno sì e un giorno no è il capocannoniere della squadra vuol dire che lì davanti qualche problemino di asset di attaccanti c'è sicuramente quindi Ibra non rientrerà nemmeno per il derby di Coppa Italia e il mio pensiero qual è? Il mio pensiero è che Ibra con tutto rispetto per tutto l'amore che ho provato nei confronti di questo giocatore debba smettere ora di smettere invece no invece il Milan gli dice Ibra no prossimo stai ancora con noi ti rinnoviamo a metà dell'ingaggio quindi intorno ai 3 milioni di euro 3 milioni di euro ma resta con noi un altro anno la cosa mi ha fatto un pochino arrabbiare perché a volte penso che davvero in certe situazioni la dirigenza abbia i semi di papavero nel cervello no perché cazzo vuoi fare una cosa del genere prendi e il giocatore lo rinnovi a gettone ma è giusto che sia così ma non sto mancando di rispetto a Ibra attenzione perché Ibra fa il suo Ibra strappa i contratti ed è giusto così Ibra è una figura molto importante nel mine attenzione è molto importante ma dal mio punto di vista in questo momento Ibra non è più importante come giocatore lo è stato tantissimo ma è importante come persona fuori dal campo secondo me Ibra deve rimanere in società e l'anno prossimo già doveva farlo l'anno prossimo come persona esterna motivatore come colui che tiene insieme la squadra come dirigente anche va benissimo perché Ibra io lo vorrei al Milan con questa figura perché è arrivato il momento di dire basta quando trascini per un mese il problema perché ormai fra un po' anche più di un mese per un'infiammazione a un tendine dall'ultima settimana di gennaio vi ricordate la partita con la Juventus in cui uscì al 28esimo dando la colpa al terreno è il terreno è troppo duro dai Ibra per favore fai il bravo il terreno non è troppo duro perché lo sarebbe stato per tutti magari il terreno è duro però fatti le domande perché tu ti sei fatto male e gli altri no cazzo quello è un fisico della madonna nessuno lo mette in dubbio ma tanto di cappello alla sua età arrivarci con quel fisico lì ragazzi però l'ha usato anche tanto il fisico l'ha sfruttato negli anni e arriva a un certo punto che un atleta se c'è un età limite e c'è un motivo un atleta 40 41 anni soprattutto se fai determinati tipi di sport come il calcio che è molto usurante basta piantala smettila lì occupati di altro e evidentemente lui la voglia tanta lui vuole ancora giocare si sente ancora in forma ed è giusto così non gli si può dire niente però gli si può dire qualcosa nel Milan perché comunque a mezzo servizio ragazzi non tanto serve e in quest'ottica la notizia di giornata è proprio la seguente che Marco Lazetic attenzione sarà disponibile per la partita contro l'Udinese probabilmente andrà in panchina pare che Marco Lazetic abbia convinto finalmente Pioli perché in allenamento ha fatto vedere cose straordinarie colpi di tacco rovesciate dribbling stop interdizione fantastica è un giocatore a come dicono gli esperti a come dicono quelli che erano a Milanello che mi hanno riferito è un giocatore straordinario quindi finalmente Pioli si è convinto a dare la chance al giocatore di andare quantomeno in panchina non credo inizialmente titolare conoscendo Pioli secondo me ragazzi gli darà quei 15-12 minuti verso il finale poi magari lo mette già nel secondo tempo non lo so però questa è una gran bella notizia perché noi in questo momento ragazzi abbiamo bisogno bisogno come l'acqua di un giocatore in attacco che sia forte e straordinario ce n'è veramente bisogno perché siamo alla frutta noi abbiamo grosse difficoltà l'ho sempre detto in attacco e questo potrebbe essere se Marco Lazetic ingrana veramente come dovrebbe essere è la soluzione per ora a tutti i mali che abbiamo poi a giugno è un altro discorso perché si apre il mercato è inutile che vi ripeto quali sono gli obiettivi perché già li sapete però la notizia di oggi è Marco Lazetic abile e arruolato questo è quello che è trapilato quindi siamo tutti contenti io sono il primo che non vedo l'ora di non vedo l'ora di vederlo giocare perché sono veramente curioso 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 come credo anche voi perché nessuno alla fine ha potuto vedere quello che fa quindi ci aggiorniamo a più tardi credo siano domani e intanto vi auguro buona giornata e a breve arriverà anche il video di Gabriele ciao a tutti adios